La maggior parte delle persone ha un'idea radicalmente sbagliata di cosa sia il CRI. Questo perché negli ultimi anni, con la diffusione degli illuminatori LED, molte imprese hanno iniziato a sbandierare il CRI dei loro prodotti facendo disinformazione a scopo commerciale. E' così oggi la credenza popolare che tra due illuminatori, quello col CRI più elevato produca una luce migliore dal punto di vista qualitativo. Non è necessariamente così. In questo video non voglio definire cosa sia esattamente il CRI. Su DP-Track c'è un articolo, il link è in descrizione, nel quale se ne parla in maniera chiara e sintetica. In questa sede voglio mettere in evidenza alcuni aspetti chiave del CRI per ridimensionarne l'importanza soprattutto in relazione ad altri parametri che sono in effetti determinanti per giudicare la qualità di un illuminatore. Quindi, semplificando in estrema sintesi, cos'è il CRI? E' un sistema di analisi che definisce la fedeltà cromatica di una luce valutandola su una scala da 0 a 100. Un CRI pari a 100 indica una luce dallo spettro completo, privo di picchi o flessione di saturazione, come la luce del Sole, in grado di far emergere in maniera fedele tutti i colori visibili all'occhio umano. Una sorgente luminosa con un CRI pari a 90 è considerata già buona, mentre una con un CRI 80, che più o meno è il valore attribuito ai LED che troviamo nelle abitazioni, è considerata insufficiente per l'utilizzo cinematografico. Questi numeri però sono una media, una media che si basa su un campione di soli 8 colori, questi qua. Una luce con CRI 90, quindi, non è una sorgente luminosa in grado di riprodurre tutti i colori con una fedeltà del 90%. Per come è fatto il sistema CRI, un illuminatore potrebbe anche ottenere una media del 95, benché sul rosso, un colore fondamentale per la riproduzione degli incarnati, non arrivi neppure a 80. Quindi, nella pratica, un illuminatore con CRI 95 potrebbe benissimo rivelarsi complessivamente inferiore a uno con CRI 85. Tra l'altro, sapendo su quali colori la luce verrà analizzata, si potrebbe anche realizzare un illuminatore che su quei colori ottenga delle valutazioni altissime trascurandone completamente il comportamento sulle altre tonalità. E questa cosa, siccome siamo sempre delle bravissime persone, ovviamente è stata fatta. E questo è il primo problema. Questi sono i risultati dell'analisi spettrale dell'emissione luminosa di una lampadina LED a uso domestico. I valori riportati al termocolorimetro sono coerenti con quanto dichiarato nelle specifiche del prodotto. Però, come si può vedere, nonostante un rispettabile CRI complessivo di 84, sulla patch R9, che corrisponde al cruciale rosso-saturo ma non partecipa alla media, la valutazione si ferma a un miserrimo 11. Sotto una luce simile è ovvio che gli incarnati appariranno tutt'altro che vitali, perché la caratteristica delle luci a basso CRI è quella di rendere i colori non solo alterati dal punto di vista tonale, ma anche poco saturi. Il secondo problema è l'errore DUV. Anche questo è un soggetto trattato su TP-Track, vi lascio il link in descrizione. Tra l'altro è una lettura molto interessante sui LED monocromatici bicolore e RGB. Comunque, in estrema sintesi, l'errore DUV indica lo slittamento verso il verde o il magenta di una sorgente luminosa, aspetto che non viene in alcun modo preso in considerazione dal sistema CRI. È possibile trovare degli illuminatori con CRI 99 che mostrino delle palesi dominanti di tinta. Con palese intendo superiore a un plus minus green da un quarto, quindi una roba che per rilevarla non serve un termocolorimetro. Basta mia nonna. Per quanto mi riguarda, è decisamente preferibile una sorgente luminosa con CRI 90 ma aderente alla curva di Planck a una con CRI 99 che però mostri delle dominanti di tinta abominevoli. Quindi, di nuovo, il sistema CRI non fornisce delle indicazioni complete sulla qualità di un illuminatore. Procediamo a qualche test. Iniziamo con lo Steampunk 120, un COB da 100 Watt. Questo è il CRI più alto che si possa oggi riscontrare in un proiettore LED. Però l'errore DUV è spiazzante. Serve un minus green da un quarto per correggerlo. Arriviamo così alla parte più interessante. Quante volte puntiamo una luce direttamente sul soggetto? Sul set le luci sono sempre riflesse, filtrate o entrambe le cose. Rimbalzano sul pavimento, il soffitto, le pareti, qualsiasi elemento in scena. E anche in esterni accade la stessa cosa. I raggi del sole sono sempre caratterizzati dal tempo atmosferico e dalle condizioni ambientali, dalla presenza di vegetazione, edifici e quant'altro. Vediamo allora cosa accade al CRI in questi casi. Prima di tutto, correggiamo il nostro Steampunk con un filtro minus green da un quarto. L'errore DELTA UV si è ridotto a negligibile 0.0007 ma il CRI è sceso da 99 a 93 e la patch R9, il rosso saturo, è precipitata a 76. Testiamo ora un softbox. Il DELTA UV si è ridotto, il CRI è sceso a 95, l'R9 è ottenuto, ma R10 e R12 sono sotto i 90. Proviamo un pannello LED CRI 93 di UV-56 R9-82 Correggiamo allora l'emissione luminosa con un filtro 246, un plus green da un quarto. CRI 96 di UV-10 R9-96 A correzioni effettuate, questo pannello con CRI 93 si è rivelato superiore al COB con CRI 99. Vediamo allora un LED bicolore con CRI dichiarato di 98. Questa è la lettura a 3002 CRI 98 R9-98 Questa è a 5006 CRI 95 R9-80 Proviamo questa luce al 10% e vediamo cosa cambia. Ancora CRI 98 a 3002 con R9 persino superiore, ma a 5006 il CRI scende a 94 e l'R9 supera appena il 75. Passando alle considerazioni finali vediamo nella pratica con alcune immagini in cosa differiscono due illuminatori, uno a basso e uno alto CRI. Dovendo miscelare tra loro luci diverse, credo possiamo essere tutti d'accordo che è sicuramente più utile disporre di mettitori che quando dicono di essere a 5600 gradi Kelvin sono effettivamente a 5600 gradi Kelvin e non hanno slittamenti di tinta, piuttosto che rinunciare a questo tipo di affidabilità in favore di un CRI qualche punto più elevato. Allo stesso tempo però, esiste una soglia di fedeltà cromatica al di sotto della quale diventa impossibile ottenere immagini controllabili in fase di ripresa e lavorabili in color. Purtroppo però questa soglia, come abbiamo visto e stiamo vedendo nelle immagini ora in riproduzione, non può essere definita unicamente in termini di CRI medio. La realtà è che da anni, sui set cinematografici, si utilizzano illuminatori LED con CRI che oggi, a chi compra faretti cinesi, sembrano improponibili in relazione al prezzo. Gli ARRI SkyPanel S60C, a 3200 gradi Kelvin, ottengono un CRI inferiore a 85 sulla patch R9. Sulla stessa patch, il Desisti SuperLED F10 a 5600 gradi Kelvin arriva appena a 80. Il Light Panels Sola 6CE ha un CRI complessivo che supera di poco 90. Stiamo parlando di un 100 W da quasi 3.000 euro. L'affidabilità meccanica, la precisione con la quale il fascio luminoso può essere indirizzato e modellato, la possibilità di correzione verde-magenta in CCT, il limite del flickering, la connessione di MX, la morbidezza nelle transizioni colore ed intensità, la compatibilità con accessori professionali, sono tutti fattori che hanno un'importanza di gran lunga superiore a qualche punto di CRI in più. Per concludere, il mio consiglio, se vi state costruendo un parco LED, è quello di considerare il CRI come uno dei tanti fattori in gioco. E vi suggerisco di acquistare prodotti tutti della stessa generazione e della stessa marca, così da avere un parco di illuminatori il più possibile omogenei tra di loro e gestibili a distanza senza dover star dietro a 5-6 telecomandi e altrettante app, cosa che vale molto di più di un CRI 98 anziché 95.